è lui assomiglia a uno assomiglia a uno che conosco come si chiama davide si chiama piacere no ragazzi non è possibile oggi oggi abbiamo un misto di emozioni la grande sei carico sei carico dai bene e dall'altro giorno che mi stai caricando a molla proprio io sono carico allora abbiamo proprio solo di essere carico li abbiamo un carico quindi andiamo a smaltirlo vai ok seguimi perché siamo lì dove sarà aereo ok ragazzi ma te lo immagina 150 anni questo c'è questo fa paura giornando anche lo spirito santo che ci facciamo il segno della croce praticamente qualcosa è un drone che si usa così è un drone da banca abbiamo visto che fa che ha l'effetto tremore nella della forza nell'universo che ha guardate quanto ben di quando vendita ok che sa pure lui che l'abbiamo portato così per fare concorrenza e niente se riusciamo a aggiornare il 257,8 device forse entro stanotte riusciremo a testarlo sento un rumore strano ecco il vero il vero dj fpp che sta arrivando guardatelo il vero dj fpp guardatelo è lui è lui ciao 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 mamma mia vai allo mostra in m attenzione che sta certo che in angolo dai ma attenzione in manuale o qualsiasi costruzanti no è questo qua dall'altra parte questo questo se tutto tutto giù vai in m ma perché c'è quella luce sotto ed è ma proprio che la vede sotto no comunque ragazzi in manuale io sto in angolo attenzione che tutto buio ancora cerito rimani basso sull'erba che vedo la luce se metti normal vai giù tranquillo non vedo la luce tu seguimana le sono non vedo la luce Ciao